Vincenzo, e allora di Vincenzo chiedi tutto quello che vuoi su Vincenzo e io ti dirò tutto quello che vuoi sapere Vincenzo è un ottimo fondista perché ha fatto più volte il fondo della preta Ma quando? Ma chi te l'ha data questa balla? Vai Vincenzo, vai 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 Te l'ha detta questa balla, che io sappia si è fermato un meno 400 Ed era già morto, stanco, disperato, distrutto e poi quando è tornato Ho detto ragazzi, non sono le verticali quelle difficili ma bensì i meandri Vincenzo non hai fatto un cazzo di meandro, Vincenzo non hai fatto i meandri Era un sacco che non aveva Ma i meandri? Era un sacchettino I meandri non sono quelli lì, i meandri sono dopo andare a fare il Torino e il Bologna Comunque grazie Vincenzo della casa, grazie, vai 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 vai